Simili, vicino a Palazzo Frizzoni c'è proprio un palco dove mi hanno detto che si stanno già esibendo e si esiberanno insomma un bel gruppo che fa proprio latino americano e ovviamente anche lì avete la possibilità di provarci gratis per questa notte vedo qualche faccia che è appena tornata dalla Corri di Notte e lì vedi perché sono abbastanza scoppiati vi ricordo che la Corri di Notte era su due percorsi 5 km e 10 km ed è partita alle ore 21 ed è ancora in corso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una cosa più bella sicuramente è vedere anche tante famiglie tantissime famiglie con i bambini che vengono magari solo per curiosare ma poi ovviamente i bambini come sempre si sa Grazie a tutti